pressione in aumento su tutto il mediterraneo centro occidentale da domani l'approfondimento di una saccatura sulla penisola iberica favorirà l'afflusso di deboli correnti meridionali sul mediterraneo centrale poche variazioni anche per lunedì in toscana domenica 22 giugno cielo sereno poco nuvoloso con modesti addensamenti sull'appennino nelle ore più calde transito di nubi alte e sottili nella seconda parte della giornata venti deboli meridionali mari calmi un poco mossi temperature stazionare un ulteriore lieve aumento cielo sereno su tutta la provincia di lucca temperature a lucca sulla piana minima 16 massima 27 gradi a via regge sul litorale minima 20 massima 24 a castelnuovo e zone montane minima 15 massima 30 gradi 20 massima 26 gradi si chiama 15 massima 25 gradi a via regge sul litorale minima 6 gradi di mercolio di sottili